Ciao a tutti, ciao a tutti, mi avvicino sempre il microfono, me lo dimentico sempre Oggi siamo, oddio non cadere il microfono Oggi siamo sullo shop di oggi ragazzi, andiamo un po' La GPU è 38, perfetto, è tutto ok, tutto perfetto Ok, ragazzi il nostro codice creatore è sempre, oh ecco, è sempre Falcor Game Scrivete Falcor, Falcor, Game, Game, Game Ovviamente potete scriverlo in maiuscolo o in minuscolo Questo, diciamo questa, il nostro codice creatore Allora, il Rinnegato vince la grande, prima partizione, capitolo 2, facione 3 500 V-Buck Ok Molto bello, molto elegante, sono elegante Allora, poi c'è un'altra, Trina Merletto o scherzetto? Ah, Merletto o scherzetto, serve dolcetto o scherzetto, solo che lei ha un cappello, credo Comunque Merle, Merletto o scherzetto A partizione 7 Uroboro, prima apparizione, stagione 7 500 V-Buck, prima si dice a due stili 1500 V-Buck, ragazzi, scusatemi Andiamo avanti Questo, ma che... No, 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 aspetta, aspetta Ho spoilerato già cosa c'è dopo Cos'è sta a fare? Paradosso, trova l'equilibrio impossibile Parte 7 Uroboro, prima apparizione, stagione 7 Ok, c'è un forziere perfetto 1500 V-Buck, andiamo avanti Visione, lo sguardo fisso Fa parte di 7 Uroboro, prima apparizione, stagione 7 800 V-Buck, andiamo avanti Equilibrisità, perfettamente bilanciato Fa parte di 7 Uroboro, prima apparizione, stagione 7 500 V-Buck Ok, perfetto Ma quanto è lungo? Ok, questo è un pochettino più lungo Per Donna Reme, non c'è niente di meglio Perché è un riposino Parte 7 Uroboro, sotto coperta Prima apparizione, stagione 2 Stagione 4 1500 V-Buck, dan sogno Ancora 5 minuti Fa parte 7 Uroboro, sotto coperta E una apparizione, capitolo 2 Stagione 4 1500 V-Buck Poi, soporam Soporam Ci vediamo nei suoi sogni Fa parte 7 Uroboro, sotto coperta Prima apparizione, capitolo 2 Stagione 4 Ok, le abbiamo viste tutte Quindi abbiamo questa Questo no Sono abissale, davvero un sogno F-Buck, dan sogno Prima di 7 Uroboro, sotto coperta Prima apparizione, capitolo 2 Stagione 4 Poi Vabbè, questi sono lo stile Poi Zanna abissale Fape Distruttore Distruttore Imbottito E poi Sha Sha Capate A spot Grazie Questo praticamente ragazzi Non c'è neanche di leggerlo È praticamente lo stesso set Possiamo anche leggere qualcosina Dai Il sonno profondo Dormi con i pesci Fa parte 7 Uroboro, sotto coperta Prima apparizione, capitolo 2 Stagione 4 Pijama Party Perfetto Pijama Party Allora di nuovo Buona notte Fa parte 7 Dopo Prima apparizione, capitolo 2 Stagione Fa parte 7 Ok, no Scusatemi ragazzi Stagione X Stagione 10 Questa è una bellissima Specialista Survivalista Costume di specialista Survivalista Raro Prima apparizione, capitolo Stagione 1 Quindi Una skin molto vecchia Molto bella Anche Del 2017 1200 UBAC Poi questo Nino Setto Gli avversari Hanno un piede Nella fossa Fa parte 7 Capitolo Stagione 2 L'apparizione Stagione 2 Non c'è Fa parte 7 800 UBAC Ragazzi Tutto Oggi Sono un po' così Distensione Sandy Corpo Forza Prima apparizione, capitolo Stagione 4 500 UBAC No 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 Questo No Ragazzi Fa anche il riflesso Ma è l'universo O è la galassia O è il nostro Tipo orbita Spirale Galattica Posto di Tossi Stagione 5 Scorri Scorri Modelli Scorri Modelli Wow Ragazzi Guardate 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 Come è bello Guardate Come sono belli Ok Ok Questo ce l'ho già In passato Perché ragazzi Me l'ha regalato Uno Credo O forse Lo sono comprato Io Ovviamente Prima di shoppare Le cose Ragazzi Shoppate Con il nostro Codice creatore Che sempre Fa il core game Ma soprattutto Chiedete prima Ai genitori Prima di shoppare E chiedete prima Ai vostri genitori Se potete shoppare Con il nostro Codice creatore O senza Io vi consiglio Con Sediti Sediti E rilassati A parizione Capito Il 261 Vabbè Questo Lo sappiamo tutti Finito lo shop Ragazzi È veramente finito Così Io sono stata Abbastanza veloce Infatti Siamo a 5 minuti Di registrazione Se vi è piaciuto Il video Mettete un bel Pollicione in su Avete Allora ragazzi Conto 10 secondi Anzi 4 secondi Per iscrivervi 1 2 3 4 Visite iscritti Ok Lasciate un bel like E io saluto Ciao ragazzi Vi voglio bene Ciao ragazzi Ciao